Si è svolta presso la Sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro la conferenza stampa in occasione della 22esima edizione del concorso pianistico internazionale Maria Giubilei. Presenti alla rassegna il sindaco Innocenti, l'assessore alla cultura Mercati, insieme alla responsabile organizzativa del concorso Giovanna Miconi, al maestro Nadir Matteucci, direttore del Centro Studi Musicali, Daniela Frullani, presidente del Centro Studi e alla presidente della FIDAPA Alta Valle del Tevere, Stefania Sgaravizzi. Abbiamo fondato questo concorso che è iniziato per dare delle borse di studio agli studenti e piano piano attraverso gli anni si è ingrandita, la commissione è diventata anche a livello internazionale. Come sempre più internazionali sono i ragazzi che vi partecipano. Quest'anno abbiamo avuto addirittura 50 iscritti, devo dire proprio da tutto il mondo. È stata una preselezione che è terminata a fine giugno, abbiamo scelto 20 finalisti. Questi 20 finalisti si esibiranno e saranno analizzati dalla commissione nei giorni di 2 e 3 settembre qui a Sansepolcro a Santa Chiara. E alla fine del concorso, domenica 3 settembre alle ore 17.30 a Santa Chiara ci sarà il concerto dei vincitori e la premizione dei vincitori. Quindi tutta la cittadinanza è invitata. Grazie. Grazie.